dotate di una certa sensibilità a. dai mondi invisibili b. oltre l'illusione c. per un mondo migliore d. le grandi verità e. la voce dell'ignoto f. oltre il silenzio g. maestro perché h. la fonte preziosa cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti dizionario del cerchio Firenze 77 a cura di VB guscio astrale perduta la controparte fisica a poco a poco il corpo astrale si stacca si dissolve rimane l'entità con il suo corpo mentale nel dissolversi dà luogo alle famose larve o gusci astrali queste larve per una forza di conservazione della forma organizzata cercano l'energia che impedisca loro questa disgregazione naturale è un meccanismo del tutto naturale da dove trarre l'energia? parte da altri corpi astrali ancora legati alla loro controparte fisica può così accadere che in prossimità di luoghi molto verdi ove ci sono molte piante questi gusci astrali possono conservare la loro vitalità apparente in fondo perché sono sempre simulacri ma a tal punto che in certe circostanze o agli occhi di persone dotate di una certa sensibilità oppure anche materializzandosi essi possono farsi vedere dai viventi 56 g grazie